Giovedì 7 novembre 2013, presso l'auditorium Testori nel Palazzo Lombardia di Milano, in Piazza Città di Lombardia 1, si è svolto il workshop di Action Group dal titolo Riqualificazione e Restauro. Oggi il tema oggetto del convegno è mettere a confronto le due certificazioni legate alla riqualificazione degli edifici esistenti, ovvero Casa Clima R e Historic Building presentato dalla Green Building Council con la certificazione LEED. Questo è molto importante perché la sfida dell'edilizia italiana è più che mai rivolta a riqualificare gli edifici esistenti in un'ottica sia di risanamento che di consolidamento e soprattutto di riqualificazione energetica. Quindi oggi con gli esperti e referenti dei due protocolli andremo nel dettaglio a vedere quali sono le principali procedure e qual è l'approccio integrato per far sì che il patrimonio edilizio esistente possa essere riqualificato e soprattutto essere certificato in un'ottica di trasparenza verso il mercato dell'edilizia. La partecipazione al corso è gratuita e prevede il riconoscimento di quattro crediti formativi dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Milano e dal Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle province di Milano e Lodi in workshop di infoprogetto, formazione, informazione e business. Le costruzioni sono ferme, come ne sappiamo il mercato soffre come soffriamo tutti di queste cose e comunque direi che l'importanza è di agire sulle costruzioni, sul recupero perché se vogliamo l'80%, forse più, forse meno, comunque lì attorno del mercato italiano è sul recupero dell'esistente, quindi c'è molto da fare. Il nuovo è fermo, quindi vorremmo che si potesse fare, si possa fare qualcosa per recuperare l'esistente e ci sono i sistemi, i modi, gli strumenti li abbiamo per poter bruciare bene, non inquinare e introdurre quei risparmi energetici che la Commissione Europea, la Comunità Europea ci sta dicendo di seguire. Si parlerà di un nuovo protocollo di certificazione che ha sviluppato l'Agenzia Casa Clima negli ultimi due anni, un protocollo tagliato proprio per il risanamento, quindi un protocollo che si differenzia dalla certificazione Casa Clima per edifici di nuova costruzione e che è stato studiato proprio per essere applicato ai casi di ristrutturazione e risanamento energetico. Oggi parleremo di qualità e di sostenibilità certificata anche per gli interventi sugli edifici storici. Una novità di fatto nel settore è anche se gli edifici storici sono sempre stati degli edifici sostenibili e nascono come edifici sostenibili. Nel tempo però questo carattere si è andato perdendo proprio per un progetto non adeguatamente calibrato sull'edificio storico e sulla fabbrica storica. Con il protocollo GBC Historic Building, che è il nuovo protocollo che sta nascendo all'interno della famiglia dei prodotti GBC basati sui rating system americani LEED, ci proponiamo di certificare il livello di sostenibilità anche per l'intervento sull'edificio storico. Noi ormai partecipiamo già da un po' di volte a questi eventi. Sicuramente è importante confrontarsi col mondo della progettazione perché poi sono loro che sono i progettisti che introducono e fanno scelte importanti per la riquirificazione in questo caso del patrimonio edilizio. Assistere loro vuol dire sì inserirsi nei progetti ma anche dare un supporto su temi molto specifici che molto spesso non vengono presi in considerazione già in fase progettuale. Nel nostro pieno di marketing infatti noi riteniamo che i professionisti, che poi sono gli attori del cambiamento, devono sapere che esiste una realtà imprenditoriale come quella che viene rappresentata di Rene, che hanno la possibilità di cambiare l'approccio tradizionale al mercato. Quindi per noi oggi questo è un momento molto importante. Noi crediamo che i professionisti, nei diversi componenti che da essere costituite, sono la chiave del nostro successo. A noi piace molto questa iniziativa, partecipiamo oggi ancora per la seconda volta in particolare attira coloro che sono professionisti nel settore e quindi permette un interscambio culturale di un livello molto elevato. Spero che Action Group possa continuare in questa direzione.